Occio attrasse, uno, due, in asse, l'uomo chiude i piedi, cambia il peso, mentre la dama non cambia il peso, si ruota, allargare in asse, allargare in asse, la dama esegue l'occio attrasse, l'uomo fa col piedi sul destro, chiude i piedi e prosegue dal traile della base. Uno, due, tre, si ruota, quattro, cinque, chiudo, base, tre, quattro, cinque.